Questa festa che gusto ha secondo lei? Ha un gusto indimenticabile, soprattutto un gusto dato anche dalla gente, dal pubblico, dagli schitani, dalle persone che vivono tutti i giorni in questa meravigliosa isola e devo dire che oggi mi sento un po' ischitano pure io. Senta ma lei fa parte della giuria, non le chiedo nulla in particolare, però ha visto queste creazioni messe su mare, quanta gente, quanta voglia, parte dalle scuole, tante famiglie, che idea si è fatta di questa festa? Immagino intanto che non sia facile il lavoro che hanno fatto, nel senso che comunque non è come lavorare con i carri a terra, quasi su mare, ci sono le onde, ci sono un sacco di inghippi, però hanno lavorato tutti molto bene e una su tutti. L'abbiamo visto dal pubblico quando hanno detto accendete i telefonini, si è acceso a giorno. E se fosse questa festa un piatto, qualcosa di gustoso, sarebbe un salato, un dolce, cosa potrebbe essere? Beh sarebbe comunque un salato e vabbè facciamo una coniglia all'ischitana. E la parmigiana come è stata? La parmigiana è stata molto buona, soprattutto i ragazzi hanno lavorato veramente in maniera eccelsa, sono bravi, beh sono il futuro di questo paese e non solo di questo paese, dell'Italia intera, quindi è stato importante anche averli incontrati, perché comunque incontrare anche uno chef è per un giovane un momento di ispirazione e soprattutto un momento di grande felicità.